If I hit the switch, I can make the ass drop, stop, drop and pop it, and after you pop it, please put it in my pocket, look here, I need a spot Hey la ragazzi, sono sempre io il vostro Dicorai25 ed eccoci qui per un nuovo video Finalmente dopo il mio ritorno settimana scorsa, o non so quando uscirà questo video, quindi non facciamo date Dopo il mio primo video di ritorno con slider.io, ora torno a un gameplay un po' più impegnato con Minecraft E con, aspetta ho un buco di memoria, scusate ragazzi, e con Floating Island, scusate, mi veniva in mente le mie costruzioni Ok, io direi subito di impegnarci e di avanzare verso quell'isola Allora, dopo vi farò vedere un po' le evoluzioni, ah no, prima cosa vi farò vedere una cosa Allora, forse ho scoperto il perchè i nostri spawner siano vuoti Cioè, perchè forse entrando con la versione sbagliata si sono smerdati un po' gli spawner e non vanno Comunque, io ero curioso di scavare là sotto quel 6 blocchi di stone Che non ricordo se l'avevo già fatto in un altro episodio, ma l'ho visto così, quindi può darsi che no Sentite che casino, eh però non ho torce Ok ragazzi, vado ad attrezzare di torce e torniamo qua Ok ragazzi, eccoci, siamo tornati, volevo farvi vedere però che ho fatto anche quel ponte lì In quella direzione e ho fatto tanti altri ponti Quindi, ora scopriamo un po' una cosa, eh però qua c'è buio, vabbè facciamo in fretta Scaviamo qua Come vi dicevo non mi ricordo se l'avevo già fatto o no Perchè poi è da un po' che non gioco, oltre un mesetto che manca questa serie Ho piazzato una torcia ma io direi di allontanarci ora Perchè viene buio, quindi vado a dormire e poi ritorniamo qua ragazzi Scusate tutti questi casini, sto andando avanti e indietro Ma è un po' un bordello Vabbè, torniamo subito qua, voi vedrete un taglio veloce Ok ragazzi, siamo quasi arrivati, vi faccio vedere però una cosa Ho una piccola pettorina e caschetto di leather Perchè avendo quale mucca posso permettermelo Ora andiamo in questo covo infernale che ci sarà un bordello immagino Facciamo così, eccolo già il primo mostro Meno male che non siamo come un punto Guarda che casino ragazzi Porca miseria, c'è un bordello là sotto Porca po- Che volo mi ha fatto fare quel creeper Qui c'è un buco enorme adesso No, no, vai via, vai via Porca miseria Sto morendo, sto morendo, sto morendo Porca miseria, sto smerdando tutta l'isola Questo non è un problema, l'importante è che io non muoria Che non muoro Porca miseria ragazzi, ma che bordello Mangiamoci un pollo Che casino Che, oh, uno scheletro, uno scheletro Pericolosissimo Con la vita che c'ho No, cadi giù Oh, muori No, c'è un altro scheletro Ma vedi di morire, non puoi farti saltare in aria sempre Ma sei proprio uno stronzo, sei Porca mi scusate ragazzi Tutte queste parole, ma veramente sono degli bastardi Io devo Al più presto Vabbè, chiudermi la strada qua Perché se no non riesco ad andare avanti E poi, vabbè, chiuderò qua ragazzi Devo andare a mettere delle torce Qua c'ho un ragno Allora, a questo punto ragazzi Io gli spawno e li distruggo tutti Tanto sono tutti vuoti Qua i mostri c'erano Solo perché c'era buio Io qua farò tutta stone ragazzi Ho coble e chiuderò tutto con Chiuderò tutto sto buco Magari questa stone qua mossi me la recupero Anzi me la recupero subito Perché potrebbe tornarmi utile Anche se non so se già dalla 1.8.9 Si potevano già craftare però Nel dubbio io me li prendo Ok Che casino ragazzi Mamma mia Non credevo di trovare questo bordello Vabbè, fa niente ragazzi Abbiamo fatto un po' di casino insieme Ora, dopo off camera Mi dirigerò all'isola quella del diamante E distruggerò l'altro spawner Dove, vi ricordate, c'erano tutti quei creeper Perché a questo punto non ci serve più a niente Io ora qua direi di fare No, anzi non chiudiamo Dopo io verrò qua e rimedierò tutto Allora A che punto eravamo arrivati? Qua sto Ah, vi svelo un piccolo trucchetto Io ho rimosso il secondo strato sotto la terra Sostituendolo con la stone E prendendomi tutta la terra In modo così da poter allargare le mie isole a piacimento Perché se no non avevo abbastanza materiale Per allargare le isole Perché alcune isole sono talmente frastagliate Che fanno schifo proprio guardarle E io le sto migliorando pian piano Ora Vado a prendermi un po' di cibo in base E ci dirigiamo dove stavamo andando all'inizio Ah, ok Volevo dirvi una cosa Anzi, ve la mostro adesso Prendo il cibo e ve la mostro ora Prendiamo questo e metà panini Ok, andiamo Vi mostro l'isola della cobblestone Anche qua ho fatto un bel ponticello Vi giuro che non richiedono poco Questo ponticello E qua ho fatto un doppio generatore di cobblestone Ma porca miseria, quanti polli Questi polli sono tutti scarpati dalla mia farm Perché è esplosa per un creeper E sono tutti scappati Comunque qua c'è il doppio generatore Qua, qua E si può fare anche dietro Adesso vi faccio vedere Qua ho fatto un letto per quando vengono a raccogliere la pietra Quindi ragazzi Questa è l'isola del generatore di cobblestone Quindi l'obiettivo è datomi da Federico Pellegrino Francesco, perché Federico? Perché Federico? Veramente non so come scusarmi Scusami Francesco Non so perché ti chiamo sempre Federico Scusami veramente Ok A parte le scuse e le idiotate che ho detto Ok, vedete qua c'era la mia farm bella carica Ma se ne sono scappati Quindi dicevo Scusami Francesco se ti chiamo sempre Federico Ma ora, cos'è che volevo dirvi? Porca miseria, mi sono scordato Ah ecco sì Lì ho fatto il generatore di cobblestone Ci sono altri obiettivi che mi sono stati dati Non ricordo adesso esattamente Chi me li aveva dati e quando Però Ora che li dico Farò scorrere il messaggio di chi me l'ha chiesto Quindi pian piano che li dico Farò scorrere il messaggio Farò vedere il messaggio Lo screen del messaggio Quindi Mi è stato chiesto di fare una bobtrap Mi era stata formulata in modo strano Tipo dicendo Fai una Un generatore di mob Non ho capito bene E io ho detto Intendevi mob trap Vabbè Poi è andata una discussione tra di noi E ho capito alla fine che intendevo quella Quindi dovrò raccogliere una valanga di cobblestone E fare una mob trap E quindi ragazzi Quella lì sarà una cosa impegnativa Però Già il fatto che siamo Sospesi in aria Ci arrivo sì Sospesi in aria è molto vantaggioso come cosa Perché Non essendoci caverne Tutti i mostri che si creeranno Si creeranno nella nostra mob trap Ok direi che possiamo proseguire dritto adesso Speriamo di arrivarci con questi 15 blocchi Perfetto Fantastico ragazzi Ok qua non mi sembra che ci sia Più di gran che Ok dovrò riempire di torce Qua c'è un po' di carbone C'è una mucca qua Ho sentito un mu Si una mucca E una pecorozza stupida Ecco Ragazzi per questo Intendevo io Per fixare le isole Perché a volte ci sono proprio Dei pezzi di isola Veramente brutti Comunque Quest'isola A parte questo Carbone Non mi sembra che Abbia molte risorse Poi magari Se me lo chiedete voi Verremo a scavare O se qualcuno Ha giocato a questa mappa E sa che c'è qualcosa di importante qua Posso venire a scavare Però per ora mi sembra un po' fiasco Questa isola Qua Fixiamo la isola Come vi dicevo Io fixo l'isola Perché A me le isole No ma levati dalle palle Mucca Mucca levati dalle palle Ma levati dalle palle Porca miseria ragazzi Non mi Guardatela Sta ballando Che stupida Tutti animali stupidi In questa isola Vabbè Ok ho fixato un po' l'isola Vediamo dove posso dirigermi Più comodamente Allora Io direi di dirigerci A questo punto A quelle due isolette lì Però Non ce la farò mai Con il legno Quindi Piazzo questi primi sei blocchi E poi torno in base A prendermi il legno Poi pian piano ragazzi Farò i ponti Per tutte le isole Io mi rompo un po' le palle Ma mi diverto a farlo Poi se mi scasso le palle Alla fine li lascio di legno Così e E venga quel che venga Se trovo un altro maiale Qua ragazzi Sarei contentissimo Le carote Ho ottenuto una carota Da uno zombie Quindi potrei farle accoppiare Ah scusate Mi sono completamente scordato Ecco Un altro obiettivo Che mi era stato dato Era stato un obiettivo Un po' folle Di gettare Nel vuoto Un diamante Io ho detto a questa persona Che per ora Non mi azzardo a buttare I miei due diamanti Però Quando ne troverò altri Lo farò questo obiettivo Un altro obiettivo Era fare un jukebox E un altro obiettivo Diviso in tre Che io ho voluto Dividere opportunamente In tre obiettivi singoli E di fare Uno stack di cobblestone Uno stack di log di legno E ci sono di già ragazzi Fidatevi che lo ho raccolti Dagli alberi E uno stack di grano E uno stack di grano Ci siamo quasi Però c'erano prima Ve lo posso giurare Vabbè Farò insieme a voi Questo obiettivo Questo di legna Lo posso già eliminare Uno stack di cobblestone Pure Perché ce n'è uno qua Quindi è eliminato Anche questo obiettivo E uno stack di grano Vedrete che Ve lo farò vedere Adesso andiamo a raccogliere Un po' di grano Ok ragazzi Scusate questa pausa Del video Ma ci tenevo a dire Che c'è un altro obiettivo Che mi sono dimenticato Di citare Durante il video E questo mi è stato posto Da Luke Luke or team Credo che il tre Sia per una E E mi ha detto Fai Sto che strano E ma strano Ma perché non provi A fare una pixel art Quindi vi metto Il commento qua sotto Scusate ancora Se non l'ho detto Durante il video E che dire Luke ha raccolto La tua richiesta Lui addirittura Aveva detto di farla Per 1600 iscritti Adesso vedrò come farla Però grazie Della proposta E scusa Se non ti ho citato Nel video Ma ti ho citato In questo piccolo lasso Che viene permesso Dal grandissimo potere Dell'editing Se ho delle ossa Si Ho delle ossa Quindi Quanto mi mancava Non lo so Vabbè andiamo a farlo Qua c'è il nostro grano E la nostra farm Di pecorozze Dopo prendo il legno E ci dirigiamo Alla seconda isola Così esploriamo Ancora anche in questo episodio Altre due isole Allora Eravamo a 59 Quindi mi mancano 5 pezzi di grano Vabbè io uso Al massimo Questo bomb meal E vediamo cosa ottengo Qua ho distrutto Distruggiamo lo spawner Allora Siamo qua Tanto che siamo qua Lo distruggiamo Come vi dicevo Non ha senso Non ha senso tenerli Potevo anche mettere Givarmi Lo spawner O andare a vedere La mappa originale Givarmi lo spawner E metterlo qua sotto Ma non mi sarebbe Sembrato corretto Come cosa Non voglio cittare In questa serie E poi sinceramente Uno spawner Non cambia La vita della serie Ragazzi Non so voi Come la pensate Ma secondo me Non cambia Il senso della serie Uno spawner In meno In più Mi faccio la trappola Per mob E le risorse Le ottengo lo stesso Ora Per non sbagliare Io faccio così E esaurisco Tutte le mie Nove fonti Di bomb meal Ok Perfetto E ora ripientiamo E ce ne possiamo andare Completiamo anche Questo stack Di grano E col calare del sole Ritorniamo a Casuccia nostra Ora Vi rinnovo l'invito Se volete mandarmi Qualche obiettivo Ma anche più disparati Più difficili Ma che cacchio Ci fa la peccola qua fuori Tu devi morire allora Mi dispiace Anche più difficili Più disparati Mandatemeli Perché io sono contento Di fare gli obiettivi Che mi proponete voi Perché ragazzi Questa serie Come vi dicevo È nata Per far vedere Originalmente Per vedere Quanto punteggio fa una persona Ma la morte Doveva finire Quindi praticamente Già il primo episodio E il secondo Nel mio senso Doveva finire Però io la continuo E voi mi dovete dare Quindi voi gli obiettivi Ok Posiamo le frecce qua Un po' di Va bene Ecco Cos'è che devo fare? Ah beh Andiamo a dormire Prima cosa E seconda cosa Si può usare il grano Per fare lo stack Di grano Quindi completamente Ho già fatto I tre obiettivi Datemi da quel ragazzo Adesso non ricordo Chi Ma verrà citato Nel video Con un'immagine Quindi Che dire Ora Prendiamo un po' di legna Diciamo Mucca Sul ponte E mi buttino giù Quell'isola Ragazzi Tra l'altro Guardate Ha dell'oro Quindi Cosa positiva E un blocco Di pezzo di neve A vuoto Che ci sta sempre bene Pezzo di neve Che vola Ci sta sempre bene Ora qua Mi dovrò Ovviamente Buttare E poi Dovrò Chiudere Il ponte Dal basso Qua non so Il perché Ci sia Una torcia Sinceramente E un po' Sono preoccupato Vabbè Lasciamo Lì c'è oro Qua c'è la pietra Dangeonica Come la chiamo io No non è vero Non la chiamo così Ma adesso L'ho chiamata così Quindi Presumo Che scavando Ci sia qualcosa Poi prenderò Il piccone di ferro E raccoglierò Questo oro Io direi che Pian piano ragazzi Mi stanno un po' Scassando le palle Tutti questi alberi Perché sono pericolosi E spawnano i mob Sopra Quindi questi alberi Diamante ragazzi Quindi Pian piano ragazzi Adesso Pian piano Alcuni li abbatterò Di alberi Perché mi sono rotto Le palle Di avere troppi alberi Ok Facciamo come prima Allora Potrei collegarmi Uh Altro diamante Guardate Quanti ce ne sono Quattro Mamma mia ragazzi E di là Non lo so Ok Io direi Visto che non sono stupido Torniamoci nella nostra bella casa Si qua faccio così Me ne torno a casa mia Mi prendo il mio piccone Vengo in questa isola qua E mi raccolgo il diamante E poi forse ci colleghiamo direttamente anche all'altra Ora torno a casa E torniamo qua col piccone E con un po' di cibo Perché se no muoro di fame Comunque ragazzi Come vi dicevo Abbatto questo albero E anche questo Perché dopo un po' Tutti questi alberi Rompono le palle Cioè c'è un albero Ogni cacchio di isola Eh bisognerà anche Dare un taglio a queste cose Volevo tenere per bellezza Ma ragazzi Ma è troppo pericoloso Ci si annidano troppi mobi sopra E rischiare di cadere giù da un ponte Sempre È bruttissimo Se no per ora li lascio ragazzi E mi fate sapere voi con un commento Se volete che io li abbatta Perché questi alberi Sinceramente un po' scassano le palle Aspetto il vostro commento Perché anche io ci tenevo a tenerli Ma non ho fino a questo livello Ora prendo il piccone E ritorniamo di là ragazzi E ho deciso che quel diamante singolo Che c'era là Sarà colui che verrà sacrificato E buttato nel vuoto Quindi toh Faccio anche quell'obiettivo lì Alla faccia di chi Niente Alla faccia Poverina ragazzi La pecora là sul bordo Guardatela La seccherò di sicuro Perché non la posso lasciare là Da sola a deprimersi Ok qua bisogna stare attenti Perché mi buttano giù Ok andiamo a prendere finalmente Il diamante e l'oro anche Oro che dovrebbe esserci anche in quest'isola Poi potrei collegarmi a quella Se ho tempo in questo episodio Se no ci vediamo direttamente al prossimo Ma Porca miseria no Sono un idiota Prossimo ma Porca miseria no Sono un idiota Sono un idiota ragazzi Mi prendere a schiaffi da solo Ma meno male che c'ho tre di ferro Mi faccio un altro piccone ma Mi faccio un po' di roba ragazzi Ma Proprio la roba essenziale Poi ci vediamo ma Che idiota che sono Ho fatto un salto come un idiota Inutile E l'ho preso Nel di dietro ragazzi Vabbè ci vediamo dopo Scusate ragazzi ma Porca miseria Ah ragazzi volevo mostrarvi una cosa Scusate Qua ho tante fonti di lava Isolate Perché le avevo raccolte là E me le sono messe qua da parte Ma Non solo questo Avevo bruciato l'albero qua Questo stronzo di un fuoco Ma volevo mostrarvi che Nell'altra isola Avevo trovato un'altra fonte di lava Quindi tutta questa lava che ho qua La trasferirò in questa isola Adesso vi faccio vedere dov'è E poi torno a casa a dormire Dopo andiamo a prendere la roba Scusate ma Sto aspettando che venga notte Dormo E poi vado là di buon mattino Così Non ho il rischio che venga buio Comunque Guardate ragazzi Qua dietro C'è una fonte di lava assurda E io verrò qua E piazzerò le mie 4-5 fonti di lava qua E allargherò il puzzo Perché Non ha senso tenermene là dietro a casa Che mi dà un fuoco Agli arbieri E rischio di bruciarmi anch'io E' capitato Ve lo dico E' capitato Quindi Niente Adesso aspetto la sera Dormo E ci vediamo direttamente là Sperando stavolta Di non fare Un salto Stupido E morire Aia ragazzi Vedo già un creeper Che mi punta Ho un po' di timore Porca miseria Stavo per cadere Stavo per cadere Come un idiota Io ragazzi Sono un suicida Lo dico sempre Sono proprio stupido Devo abbatterlo Quest'albero Vabbè Aspetto i vostri commenti Ragazzi E vediamo cosa farne Ora con calma Senza fare Idiossie Perché Ho finito il ferro E non potrei più raccoglierlo Anzi Devo trovare Della fonte di ferro Ragazzi A parte che Facendo la mob farm Spero che poi Alcuni zombie Mi diano Del ferro Ecco ragazzi Nella prossima puntata Potremmo dedicare Alla mob farm Così da far vedere Ad alcuni di voi Magari come si fa Ma credo che ormai Tutti sappiano come farle Però Prossimo episodio Fatemi anche Datemi anche un commento Del genere Ditemi se volete vedere Che faccio la mob farm O se la faccio da solo Comunque ora scendiamo Faccio così Un diamante Ragazzi E ora Caro Persona X Non mi ricordo Come ti chiami Mi scuserai Prima inquadriamo la Che quindi mi rifarò Ma cara Persona X Che vedrai Quest'opera fatta Spero che vedrai Questo video Ma sto facendo Il tuo obiettivo Gettare un diamante Nel vuoto No Ho sbagliato tasto Ok Diciamo addio Al nostro diamante Quindi ragazzi Dopo quest'opera Infame Che ho dovuto fare Per obiettivo No beh ragazzi Alla fine Cioè non succede niente Un diamante Però dopo questa cosa Che ho dovuto fare Con questo vi saluto E Con il mio solito fail Vi dico Arrivederci Non è mica una roba formale Vi dico Vi invito Al prossimo episodio Scusate Sono un po' Incoglionito Vi invito Al prossimo episodio In cui forse Raggiungeremo Quella ben amata Isola E prendiamo i diamanti O anche quella Ma io mi Premurerò di prendere L'oro che c'era là Se non sbaglio E l'oro che c'era qua Lo prenderò Off camera Voi fatemi sapere Per quella cosa Degli alberi E per la cosa Della mob trap Se volete vederla Che la faccio In un episodio O se la faccio Off camera Ora Per questo quarto episodio Di Ehm Come si chiama Porca miseria Non mi viene più niente Ho visto una mucca cadere Non so se era vero Al massimo Vi vedo lo slow motion Se è vero Per questo quarto episodio Di Porca miseria Per questo quarto episodio Di floating island Di return Perché si chiama così la serie E tutto Vi invito a lasciare Come sempre Un like Se volete Un commento Ed iscrivetevi al canale Inondatemi di commenti Con proposte di obiettivi Perché alla fine Ragazzi ve l'ho detto Porca miseria Ve l'ho detto Io aspetto i vostri obiettivi Quindi inondatemi di commenti Con i vostri obiettivi Io me ne ritorno Mesto mesto A casa mia Per posare il mio piccone Di ferro Perché Devo trovare altro ferro Perché se no Lo prendo nel di dietro E non posso più raccogliere Ore e cose così Da di cori 25 Ufficialmente tutto Lasciatelo nei commenti Iscrivetevi E Quindi che dire ragazzi Alla prossima Non so quale video uscirà prima Ma E good luck Ragazzi Ciao ciao Scusate ancora questo fail Ragazzi ma Non ci poteva non essere Un ritorno Con una morte stupida E un piccone buttate via Ciao ciao ragazzi